Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi sono davvero molto contenta di parlare insieme a voi e di scoprire soprattutto questo fantastico prodotto. Parliamo di un top di gamma, è una scheda madre ed è dedicata ai nuovissimi processori Intel di decima generazione. Parliamo ovviamente della Asus ROG Maximus 12 Extreme. A far strano cominciare a parlare di una scheda madre Intel citando AMD. Ma è importante comprendere l'evoluzione non solo del prodotto di Team Blue. In Z490 il chipset di ultima generazione Intel è arrivato sul mercato in un momento davvero molto particolare. AMD con la terza iterazione dei processori Ryzen ha sdoganato sul mercato con prezzi molto competitivi una gran quantità di core, un buon aumento di performance in single core e una litografia avanzata che ha nobilitato di parecchio la line-up del Team Red. La risposta di Intel sta in Z490, la quale si aggiorna e spinge la litografia Intel a 14 nanometri. In questo modo Intel è riuscita a nuovamente a portare a casa lo scettro del processore gaming più veloce al mondo col suo nuovo 10900K. Ma bisogna tenere in considerazione una cosa, anche in default è sottoposto a sforzi estremi e nuovi processori Intel possono arrivare a consumare nell'ordine dei 250W. Per tutti coloro che desiderano acquistare una scheda madre car armato in grado di garantire le migliori prestazioni dei processori Intel di decima generazione la Movo Asus ROG Maximus 12 Extreme è quella che fa il caso vostro. La Movo Asus ROG Maximus 12 Extreme è la punta di diamante delle offerte ROG per chipset Z490. È stata progettata e idealizzata non solo per spingere al massimo le prestazioni dei processori di ultima generazione Intel ma anche per sopportare qualsiasi tipo di overclock. La robustissima sezione di alimentazione è massicciamente dissipata ed è in grado di reggere i carichi più gravosi anche col minimo flusso d'aria. D'altronde, perché accontentarsi di fare più di 5 GHz col proprio 10900K se posso farlo anche in silenzio con un bel sistema custom liquido? Al lento delle funzioni più estreme di cui sicuramente i nostri follower più tech sono già ampiamente a conoscenza la Maximus 12 Extreme, come in generale tutte le mainboard ROG ha in dote una serie di utilissime fuser che migliorano e velocizzano il setup e le operazioni che in daily ci troviamo ad affrontare. Parlo ad esempio della funzione iOverclock, migliorata rispetto al passato grazie ad un algoritmo costruito sul comportamento di centinaia e centinaia di processori in grado di prevedere con precisione e accuratezza quanto voltaggio erogare per ottenere una determinata velocità e poi applicare queste impostazioni al sistema. Ma quali altre funzioni dedicate al mondo dell'overclock e alla ricerca della personalizzazione e delle performance sono disponibili? Sicuramente un buon overclock della CPU deve portare in dote altrettanta cura nella gestione delle memorie ed è proprio qui che Optimum 3 ci viene in aiuto. Questa soluzione hardware migliora la resa del sistema grazie ad un isolamento dedicato dei collegamenti tra RAM e controller delle memorie, magari fino a 4700 MHz e oltre, supportati nativamente da questa scheda se la vostra CPU lo permette. Raffreddare adeguatamente il sistema è diventato un punto fondamentale con i nuovi processori interi. Come abbiamo condiviso prima, sono infatti unità in grado di spingere davvero forte sul fronte performance ma anche su quello del calore e dei consumi. La Maximus Dodge Extreme è equipaggiata con una water cooling zone, soluzione decisamente più raffinata per chi non trova adeguato equipaggiare il proprio WC di un semplice dissipatore ad aria o a liquido. Se insieme alla CPU state già scegliendo anche la misura dei tubi rigidi e la miglior pompa per il vostro sistema custom, vi farà piacere sapere che su questa scheda matri trovate connettori dedicati per le sonde termiche che troviamo sempre più spesso nelle build più ricercate, oltre che un connettore dedicato ai misuratori di flusso di ultima generazione di Beats Power. Non è decisamente più necessario integrare un controller all'interno della vostra build. Per collegare adeguatamente tutto il necessario, siamo confidenti che ben 14 connettori e 4 pin WM, divisi tra connettori per ventole e pompe, siano in grado di garantirvi tutte le possibilità di collegamento di cui potreste mai avere bisogno. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Se avete qualche domanda lasciate un commento, vi ricordo di iscrivervi al canale, di followarci sulle nostre pagine Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati. Ovviamente trovate questo fantastico prodotto sul nostro sito www.drago.it e noi ci vediamo al prossimo video!